Buongiorno e buon anno a tutti, sono Filippo Abba, nuovo presidente della società sportiva direttantistica che abbiamo costituito per poter continuare nella gestione del Golf di Borneo. Alcuni di voi mi conoscono già, ma vi posso garantire che stiamo lavorando duramente perché i tempi sono stretti. Stiamo sicuramente proiettando tutte le attività per essere a partire in primavera con il nostro bellissimo campo e continueremo a gestirlo con lo stesso staff che avete sempre visto, quindi direttore Luca, maestro Daniel, tutto il personale che sarà assunto dalla nuova società sportiva. Siamo convinti di poter avere un 2023 piacevole, cercheremo di fare ogni sforzo per renderlo nel limite del possibile ancora più bello e piacevole delle annate che abbiamo trascorso assieme negli ultimi anni, in cui sicuramente ci siamo divertiti. Quindi ringrazio tutti quelli che nel passato hanno supportato il Golf e chiedo a tutti, che siano gli amici, i soci, i sostenitori, gli sponsor, di continuare a supportarci con lo stesso entusiasmo, la stessa voglia, la stessa grinta che c'è sempre stata. Possiamo sicuramente contare su delle basi solide che ci sono state lasciate in eredità dalla precedente gestione e quindi siamo ottimisti su un'annata nuova nel 2023 ancora più bella ed entusiasmante. Vi ringrazio fin da ora e ci sentiremo presto.